buona sera a tutti amici delle video sfide e benvenuti a questa video sfida da me proposta su punk 3 andiamo ho selezionato il gioco andiamo adesso a mettere il credito iniziamo e qui ho scelto decidere prendere cap'n'og questo a questo giro partecipa anche dei supremassi cabinet che dovrebbe aver detto bene che è un po' il re dei cabinati di questi giochi qui quindi penso che ci darà da fila da torcere un po' a tutti madonna buona parte no sbagliato dove prima da una buona ma non è scappata allora non so se ci avete fatto caso ma le palline quelle piccole vi danno ma perché le palline piccole vi danno la prima vi da 800 punti la seconda 1.6 la terza 3.2 e tutte le altre successive 3.200 perché vi dico questo perché se vi ricordate ho detto che pink e leopold ha i suoi pro e i suoi contro quali sono i suoi pro è che è quello più facile per finire il gioco perché quando prendete la dinamite il quadro vi diventa estremamente caotico però è quello che con il quale riuscirete a fare più punti e e scusate meno punti proprio questo discorso qui eccola e eccola e quello mania male quell'animaletto quando fa lo scalino vuol dire che c'è un pezzetto di muro invisibile nooo 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 ah allora quindi finisce più aspetta arriviamo arriviamo un po' arriviamo a uscire questo diottore di merda lo sapevo e ci morivo, lo sapevo, l'ho visto, c'è un bambino, l'ho visto che aveva delle butte intenzioni, Gesù morto, mamma mamma morto e cro cro sci fisso, che ci vuole questo sparo qui per finire l'acevolmente, faccio così, ecco fatto madonna, rospa della madonna, Dio svituperato c'avevo là su quel cazzo di frutto che mi dava un monte di punti, Dio trasandato di Gesù, via, ora facciamo il passato un po', ma carne Questo è un po' complesso perché questo, diciamo, questo da cominciare a arrivare, vedi, questo è liottero, poi arriva un altro, vedi, oh, a buo, via la finita. Grazie a tutti. 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 Sa Giulia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. un casino, via buttassi di sotto e sparà, ma no! Quanto c'ho? 47, qui ci muoio sicuro. E' vero se lo tirete fuori, vai, qui non voglio prendere, voglio andare a vedere che c'è, ah, di ora ma c'è un max, eh. Vedi qui c'è il ghiaccio e... e... Leopold non ci scivola sul ghiaccio. No, no, sono tornato indietro a prendere l'orologio, ma ho sbagliato, ho fatto una cappellata. Allora qui c'è una vita, cerchiamo di prenderla. No, ora qui arriva al rompecoglionile di oltre. No! Ok, ah, no, ma fammelo prende questo. Ok, ora facciamo andare giù, ora vi andrà giù, perché questi qui... Madonna, gli ottero di merda! Che il vento ti disperda! No! Oh, lì, eccolo, vai! Vai, via, qui, due si dovrebbero cappare. Uno... Ora sono rimasti bloccati, ti vedete, eh. Oh, sapevo che Gesù, che Gesù mi scassava la minchia. Ora io là non ci ritiro, perché ovviamente... Là non c'è più, ora non c'è più il... Più è sbagliato, via! Madonna, l'avevo quasi finito! Dio si... Eccolo! Eccolo, ero più picoglioni! Eccolo l'eliottero del cazzo! No, non... Guarda! No, non... Guarda! Un luogo di questo Crowe! Eccolo l'anguino! Eccolo l'anguino! Eccolo! Che tempo! Eccolo l'anguino! Eccolo l'anguino! Eccolo l'anguino! Che tempo! Un luogo di quello! su 1.900.000 a 2.000.000 vinco un'altra vita su, vediamo se ce la facciamo arrivarci madonna arcane di quel cane, qui ci voleva, comunque mi sono trattenuto, forza e eccolo il cane, oh via, è finito anche questo, manca solo 70.000 punti e si vince anche la unina, guarda io questo, questo si dovrebbe finire ah qui c'è una vita però non è facile prenderla, non è buona, l'ho vinta a buo, 2 milioni, l'ho vinta a buo, se no avevo finito madonna però quella io non ho presa quindi non la prendo più, perché ok ah E qui mi sembra che ci sia una vita. Eccola, me la ricordavo bene. Eh, questo è un casino, questo è un macello, ragazzi. Questo viene cercato di scansare le palle più possibile, perché, perché, eh, niente. E poi mi comincia a sparargli quando c'è un po' più di spazio. Eccolo, 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 eccolo. Ma questo è un macello disumano. Qui ci vorrebbe, allora, intanto facciamo le ralentare. No, no, l'ho distrutto, no, 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 no. Eh, quando si dice... Domignoni, allora. Allora, continuo, ovviamente no. Quanto ho fatto, vediamo un po'. No, è sbagliato. E vediamo quanto ho fatto. Allora. 2.370.300 punti. Io ora voglio provare a fare una cosa. Secondo tentativo, però, lo faccio diverso. Lo faccio, cerco di finire tutto e quindi saltando gli schemi. Ovviamente facendo così faccio meno punti. A meno che non ce la faccia a finirlo, perché se uno lo finisce mi sembra che dia 2 milioni di punti a finirlo. Mi sembra, eh. Non me lo ricordo, perché se hai dato i migliori punti a finirlo è... Vedete qui, cerco di rischiare un pochino meno. Cioè, tentando, più che fare i punti, di arrivare in fondo. Su, va via. Eh, madonna! Svent... Dio! Sta a rompimi il cazzo! La pallina di merda! Di Gesù estere fatto! La pallina di merda! guardate guardate la cazzo di ora si poi vediamo quell'altro di qua oh perfetto viviamo che qui si può anche rischiare perché avendoci la barriera www.mesmerism.info Get ready! Go! Get ready! Go! Oh! Vieni, vieni, vieni tutti i fottelati! no sapevo Gesù, 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 di te non ne posso più, Gesù, a Pai con Maria, che sarei me a che tu ma? Come, out, I XP! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa ha fatto poco di un milione. Facciamo l'ultima. Allora, questa è un milione e 24.600. Ultima. No, ho preso un non-tacos, ho sbagliato. Vabbè, facciamo un non-tacos. Mamma, poi l'odio proprio questo. Proprio l'odio con tutte le mie forze. Se potesse entrare nello schermo per picchiarlo. E vedi, è già, ma ha già fatto incazzare. Io prendo l'alpione, non me lo do a doppio come nell'altro di default. Quindi è più... Allervati, cane. Cane, 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 cane di... Cane, cane, cane di... Oh, Dio! Egliottero di Gesù! Accidentale, eliottero di Gesù! Signora, per il morto. Accidentale, eliottero di merda di quel canaccio nero. Svituperato. Di, 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 Dio! Game, porca... Voglio vedere se il cane è l'eleottero di Gesù mi viene a rompere i coglioni. Un'altra volta. Su, mi viene a rompere il cazzo. Questa volta mi rompi di molto poco il cazzo. Questa volta di Gesù! Oh no! Capra! 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 perché oh donna gatta della madonna gatta perché Gesù non è un gatto è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa allora si vinterà 500.000 il prossimo è a 2 milioni oh madonna spuntrata della madonna questo cazzo di merda di Don Pachos di questo cazzo è un'altra cosa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo un po' quanto ho fatto. Allora 2.370.300 punti. Buona sfida a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.